www.mesmerism.info 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 oh santina mia oh santina oh santina un anno fa come quando il suo home andava via il mercoledì che fai di compagnia oh santina è un canto e tu sei morto che non ho visto che tu sei giuro manca da perché sbagliate tu ma no ma è santina questo è qui non capite? come? ma per chi è che arresta? se ricerche il tuo ala quando il suo home andava a lavorare prima del giorno fa e dopo il giorno fa e dopo il giorno fa e dopo il giorno fa martedì e giovedì e venerdì vendite la burasetta, ci fa a fare una caramella dammela, volentiero? beh, beh ne, a me voi si, non sbagliami? si ma la mia portante è una supposta, guarda la mia una supposta oh mamma e allora le te la bella e la menta, anche io mi iscri olti, che conti nel che fanno di che mi iscri mi iscri beh, ho proprio gli occhi espressivi c'è quella che ha un sede lui, prima da morir la bomba ora, ve l'avevo detto stavo poco bene e meno male che il paradiso va appena il 10% delle suocere perchè se mi ha resa il 90% e si ha reso un inferno e là a un certo punto un anno fa mi scusi né signora ma per andare al cimitero dove devo prendere il pullman e mi godi in pieno che fai bene? e mi fai da là perchè a me, devi passare un attimo in farmacia a fare e devi più che scapuletti di pastiglie che mi dai il dotturo? a te non fai che tu sti ma la passata o me ne va 24 pastiglie al dì ma come? a per forza che scritte su uso orale vina all'uro ma scusa e allora se che era scritte uso anale vabbè la vendevo mai vina l'anne il 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 è Grazie a tutti